Prosegue al sito paleontologico del villaggio del pescatore, tutte le attività proseguono anche per Ferragosto. Il sito paleontologico del villaggio del pescatore dove è stato scavato ed estratto il celebre dinosauro Antonio è per tutta l'estate al centro di una nuova spettacolare mostra all'entì allestita dallo Zoiche e curata da Flavio Bacchia che racconta cosa abitava in mari giurassici al tempo dei dinosauri. E' uscito quest'estate nelle sale il quarto episodio della serie di Jurassic Park film dove fanno la loro comparsa animali predatori giganteschi adattati all'ambiente acquatico. Sul sito di Duino una mostra il mare dei dinosauri per confrontare realtà scientifica con finzione cinematografica aperto tutta l'estate, venerdì sabato e domenica dalle 16 alle 20 e 30. In una mostra una serie di repliche, modelli e campioni originali e esemplari lungo fino a 8 metri con uno spaccato di quanto abitava il mare e gli abissi marini nell'era dei dinosauri. Una passerella di predatori dei mari preistorici tra mosasauri, pilosauri, plesiosauri, itiosauri, tartarughe e coccodrilli giganti. Ma l'evento d'eccezione del weekend di Ferragosto è l'esposizione in mostra di alcuni campioni di Ambra Cretacea, uno dei periodi di dinosauri contenente esemplari di zanzare, il punto di partenza per l'estrazione del DNA che sta alla base del film di Spielberg. Abemus Zanzaram, con questa frase maccheronica, Andrea Colla, entomologo del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, ha recentemente concluso il suo lavoro dopo aver investigato un lotto di frammenti d'ambra contenenti dei reti fossili. Venerdì 14 tutto sarà visibile dalle 16.30 alle 20.30, sabato 15 e domenica 16, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Sarà possibile così osservare, per la prima volta in Italia attraverso una telecamera connessa a un microscopio e collegata a un monitor, gli insetti contenuti nell'ambra dei dinosauri, tra cui una zanzara e un fiore. Il tutto sempre con la collaborazione del Museo Civico di Storia Naturale che mette a disposizione le necessarie attrezzature. Il Comune di Trieste ha chiesto in dono la pineta di Barcola per restituirla alla popolazione. L'Alabarda si prepara a dominare una volta per tutte la pineta di Barcola. Il Comune ha deciso di ingacciare una battaglia burocratica con lo Stato per conquistare il famoso tratto del lungomare che ogni triestino ha a cuore e che ci invidiano un po' tutti in Italia, tanto in estate quanto in inverno. Quello che ci consente di fare un tuffo a pochi minuti dal centro o una passeggiata in qualunque momento della giornata con la spettacolare vista sul castello di Miramare e sulla città. La pineta è ancora di proprietà demaniale e il municipio vuole prendersela a titolo gratuito, si intende, perché consegnarla ufficialmente ai cittadini. L'operazione che dovrà superare non pochi cavigli amministrativi e giuridici potrebbe chiudersi già nel giro di un anno. La strada però sembra spianata perché il percorso iniziato a volontà politica non manca. La delibera in cui la giunta Cosolini sollecita la regione ad attivarsi con lo Stato è stata votata qualche giorno fa e probabilmente già nelle prossime settimane il documento sarà preso in esame dalla commissione paritetica, quella che regola i rapporti con il governo. Nella stessa delibera figura anche la domanda di acquisizione, sempre senza oneri, per le casse comunali dell'ex caserma Duca del Pugile di Via Cumano, in cui si trovano il Museo di Enriquez e il Museo di Storia Naturale e il Museo del Mare di Campo Marzio. Ma è chiaro che la partita più importante, anche per il valore simbolico, si gioca sulla pineta. Senza contare che la possibilità per il Comune di disporre direttamente del tratto compreso tra piazzale Kennedy e l'intero lungomare Benedetto Croce darebbe mano libera per interventi e iniziative necessarie a migliorarne e valorizzare ulteriormente la zona. Ufficialmente la proposta è stata portata in giunta dall'assessore Andrea D'Apretto. La pineta di Barcola è da sempre destinata ad attività ludiche e alla ricreazione di tutte le fasce d'età della collettività, si legge. Un'area verde della città in cui vengono assicurate importanti funzioni di interesse pubblico. Cosolini è intenzionato ad andare fino in fondo. Sono tre beni demaniali sui quali il Comune ha investito notevolmente, quindi ritengo che sia giusto tentare la procedura, in particolare la pineta a ferma, è una particolare importante della città, in cui il Comune ha un'intenzione in termini di manutenzione e di pulizia che abbiamo rafforzato, visto che in estate l'area è sempre affollata. Sono siti che il Comune sostiene già con costi di rilievo, costi che hanno generato valore, ma averne la proprietà può permettere scelte di miglioramento. Il Presidente della Commissione Paritetica, Ivan Strizzolo, apre. Massima disponibilità da parte mia ad approfondire la richiesta già nella prossima seduta del 9 settembre, in quella sede annuncia potremmo produrre una prima relazione. L'iter prevede l'approvazione di una bozza di decreto preparata dall'organismo. Il documento viene quindi inviato. In via preliminare ai ministri coinvolti, in questo caso, economia interno ed ambiente. Con il parere favorevole dei dicasteri, la paritetica varia a un test definitivo che invia al Consiglio dei Ministri a cui spetta il via libera definitivo. In sostanza, un timbro su un decreto legislativo che sancisce il trasferimento di proprietà dal demanio alla Regione e quindi alla Comune. Se invece il parere è contrario, la Commissione inizia un confronto con i funzionari statali per approfondire le problematiche e arrivare ad un accordo. Quanto dura questa procedura? Spesso i ministeri impiegano mesi a pronunciarsi, chiarisce Strizzolo. E ci troviamo a dover sollecitare. La tempistica non è semplice da definire, ma non escludo che già dentro l'anno possa concludersi. Anche l'assessore regionale Francesco Peroni, che ha la responsabilità dei beni demaniali nella Regione, è pronto a valutare. In questo momento non posso anticipare alcuno giudizio, spiega, visto che vanno approfonditi i contenuti precisi dell'iniziativa. Ma dal punto di vista politico, da parte nostra c'è un'ampia disponibilità per una verifica puntuale della richiesta e dell'istruttoria. Manca un mese all'invio della nuova edizione della Coppa Venezia Giulia, il torneo di calcio a 7. Sentiamo. Andrea Giovanini, a settembre riparte la Coppa Venezia Giulia, con quali novità? Una Coppa Venezia Giulia che è come sempre la realtà calcistica a 7 della città. Novità quest'anno, per avvicinarci alle squadre abbiamo abbassato i costi di regia, quindi costi di iscrizione e abbiamo in serbo delle novità, quali un torneo over a 45 che dovrebbe iniziare intorno alla metà settembre. Sono aperte le iscrizioni anche in questo momento per il torneo aperto da tutti e a metà settembre inizierà anche l'over a 45 che ormai è la nostra peculiarità. E con l'anno scorso presentavi 4 calci a 7 su teleantenna e facevi anche le teleclunache delle partite, ovviamente quest'anno verrà riproposto il tutto, sarai presente? Io spero di sì, sentiremo l'editore, è stato un piacere collaborare con teleantenna anche perché ha avuto parecchio successo la trasmissione anche di telecrona che ha visto da tantissime persone, anche e soprattutto poi nella seconda battuta quando la telecrona cae, la trasmissione andava su YouTube con moltissime visitazioni, quindi io penso che sia una cosa positiva per tutto il movimento e anche per chi alla fine ha il piacere di rivedersi e di sentirsi in un contesto simpatico che è quello di 4 calci a 7. Quante squadre hanno partecipato l'anno scorso alla manifestazione e quante invece indicativamente ovviamente parteciparanno nella prossima? Siamo lontani dalle 124 squadre di qualche anno fa ma evidentemente la crisi ha colpito un po' tutti e quindi anche la manifestazione che ho il piacere di organizzare. Evidentemente quest'anno cerchiamo di ampliare quello che erano le 84 squadre dell'anno scorso con sei gironi aperti a tutti, i due gironi di over 35 che rimarranno tali penso, suppongo e poi con questa nuova idea dell'over 45 per quelli un po' più vecchietti come me con la pancia che quindi hanno difficoltà a giocare con giovani che corrono molto più di loro. Ricordiamo chi volesse iscriversi e se puoi dare qualche dato o qualche indirizzo? Sicuramente ancora fino a quando non finisce la saga della Sardella dove noi operiamo su a Campanelli in campo sportivo tutti i giovedì vanno di sabato e domenica fino al 23 di agosto e in caso non si riesca a fare il passaggio su comunque il numero di telefono è 329-328-1764-279 che è il numero di Patrick che è il mio collaboratore, il mio coorganizzatore oppure il mio numero che è il 335-123-9616 per qualsiasi cosa siamo a disposizione pronti ad accettare chiunque voglia divertirsi un po' con il calcio a sette. Un'ultimissima domanda, il calcio a sette a Trieste diciamo che è un po' la capitale è molto seguito, è molto giocato, quali i segreti di questo successo ultradecennale? Ho avuto il piacere di giocare un po' l'Italia proprio per questo motivo, per lo sport ho visto che nelle altre città il campo a sette proprio fisicamente non esiste c'è piuttosto il campo a cinque qualcosa di calcio a otto addirittura o qualche volta il campo 11 che ci sono in uno di questi due treni a Trieste forse anche per conformazione della città che non è molto pianeggiante ma fa difficoltà, è molto presente questo campo un po' ridotto il segretto è che i gruppi spontanei, quelli che alla fine si iscrivono al torneo hanno il piacere di disputare qualche partita serale durante la settimana e ritrovarsi per poi andare a bere la birretta, quindi il terzo tempo è sempre un protesto positivo e buono per fare una squadra e quindi questo forse è il segretto e la fortuna della Copa Venezia Giulia di tutto il calcio a sette terrestino E per ferragosto la fondazione Coronini Cronberg ha aperto il palazzo e il castello di Gorizia ci sono anche sconti per chi visita entrambi Un'alternativa al mare in caso di pioggia o più semplicemente un modo originale per trascorrere la più tradizionale festa estiva Il castello di Gorizia e palazzo Coronini Cronberg resteranno aperti nella giornata di ferragosto con i consueti orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 Il palazzo dalle 10 alle 19 il castello E a partire proprio da sabato 15 tornerà la promozione che consentirà a curiosi turisti che visiteranno la splendida dimora di Viale 20 Settembre di scoprire i segreti del maniero simbolo della città a prezzo ridotto L'iniziativa voluta dal comune di Gorizia e dalla fondazione Coronini Cronberg verrà anche per chi non si recherà in castello e da lì giungerà a palazzo Coronini Nel dettaglio, chi arriverà dal castello nella storica dimora del conte Guglielmo potrà acquistare i ticket di ingresso a 3 euro anziché 5 e il biglietto consentirà di visitare anche la mostra della penna d'occa dalla macchina da scrivere Guglielmo Coronini è la bella scrittura che attraverso l'esposizione di calamai, tagliacarte, pennini metallici, penne stilografiche, portamine e matite meccaniche contribuisce a proiettare il visitatore in un ideale viaggio nel tempo che mira a scoprire l'evoluzione delle abitudini scrittorie negli ultimi due secoli con un occhio di riguardo per l'aspetto estetico, storico ed artistico dal momento che questi oggetti, soprattutto se utilizzati dalle classi elevate non di rado erano realizzati con materiali preziosi e caratterizzati da raffinati decori Per chi si recherà al castello di Gorizia ed esibirà in biglietteria il tagliando d'ingresso di Palazzo Coronini è previsto invece uno sconto di 1,50 euro con il ticket acquistabile a 1,50 euro anziché a 3 All'interno del maniero sarà possibile ammirare la mostra 1915 l'esercito marciava avanzata verso Gorizia che attraverso foto in parte inedite, cimeli, documenti, uniformi originali dell'epoca rievocherà quei momenti rimasti impressi nella memoria collettiva L'esposizione che verrà aperta fino a novembre è curata dall'associazione culturale Isonzo gruppo di ricerca storica di Gorizia ed è allestita in tutte le sale del castello testimone della storia millenaria della città ed in particolare della grande guerra essendo stato distrutto proprio durante il primo conflitto mondiale ed in seguito ricostruito nella sua attuale forma La promozione sarà valida fino a domenica 4 ottobre giorno in cui si concluderà la mostra sulla storia della scrittura a Palazzo Coronini Ci fermo qui con l'edizione di Trieste e Gorizia Noi ci ritroviamo invece con le altre news Vi invito a restare con noi con Teleantenna Grazie e buona serata con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti Autore dei sovrapposti